buongiorno c'è sempre io buongiorno un attimo ragazze che delle ospite ciao venga dove venite? noi dalla parte di casa stiamo facendo il TikTok che non fa niente non fa niente non ti preoccupare vieni saluta la zia saluta ciao stiamo facendo il calamaro per il mio marito ha aperto la porta e mi ha fatto incontrare queste due belle signorine belle tutto bene? si si tutto bene volete fare la foto? zia? si come vuoi? no tu sei venuta qua per che cosa? per vedere me? quasi bella e tu vuoi fare la foto? a zia prendi il telefono e faccio anche la zia prendi il calamaro e il bozzotto soffitto a zia a zia con mio marito ma che stai chiamando? mia sorella ah va bene ragazzi sono sempre io non sembro sempre io aspettate se rimarrò faccio un tiktok un bacio preparamento la vallea che stucca è l'intregala avete capito? è la vallea omogiega omega 3 va bene? poco 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 guardate perché mio marito non la può mangiare va bene? facciamo rosolare c'è giù un uffo lille capo me fanno dopo olio e caccio l'olio d'olio una bella ista di scivalluzzo tanto bello i calamari frischi mio marito tanto bello i margiolini tanto bello tanto bello bella zia molto bello l'argi fuoco in dalla vallea in dalla scivalluzzo tanto bello e potete girare tanto bello tanto bello è tanto bello che il nord avate girato lasciate assorbire lasciate lo sobbiccio sacate le picco in bianco tanto bello capito fintus ma fate i bisalli a me e i bisallini li buttiamo una bella frangata va bene? e voilà una patata giusto giusto una bella patata rossa rossa guardate con tanto amore quando cucinate con tanto amore viene tutto cosa bello mettiamo due ciliegine 4 o 5 appena appena guardate giusto per dargli un poco di colore basta così va bene? questa è sale marino regalo la giocattata dalla farmacia va bene? una bella frangata di sale lo faccio cuocere una vinticino minuti e lo faccio per questa sera buongiorno e pace è sempre una bella pace ecco bellissima è compleanno di pecco domenica grazie io non ci sono perché tengo tre eventi uno roma uno taranto e uno a napoli domenica venga 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 quindi checco compierà 16 anni domenica il mio augurio che passe presto presto questo brutto periodo che ha un signor c'è la tanta forza che passano altri due anni in fretta in fretta